Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Aglio e Barberino, per traffico, coda tra Aglio e Calenzano, tutto in direzione sud. Sulla Firenze Mare per traffico troviamo rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio Colla 1, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Bivio 11, Firenze Nord e Firenze Peritola, il tutto in direzione del capoluogo. Siamo alla Firenze Pisa Livorno, per lavori all'altezza del Turbone, un chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze, in carretto opposta, il traffico è rallentato. Ricordiamo il percorso alternativo sulla SP12 della Val di Pesa. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per incidente, troviamo rallentamenti in Viale Lavagnine da Piazza della Libertà a Viale Strozi, risentimenti anche sui viali di circonvallazione. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!